Si dice che una misteriosa creatura soprannominata Big Grey Man, il grande uomo grigio, si aggiri sul picco più alto della zona montuosa scozzese Cairngorms. Questo picco è chiamato Ben McDewey ed è situato a 1309 metri di altezza. I testimoni che dicono di aver visto la creatura la descrivono come di forma umanoide, molto alta, circa 3 metri, con capelli corti, braccia lunghe e carnagione olivastra. Essi dicono anche che questa creatura non sarebbe fatta di carne e ossa, ma sarebbe incorporea come un fantasma. Si dice abbia inoltre il potere di trasmettere sensazioni strane in chi sta salendo sulla montagna. Purtroppo non ci sono molte prove riguardo alla sua esistenza, se non testimonianze e alcune foto di strane orme. Da alcuni secoli pare che avvistamenti strani siano avvenuti in questa zona, ma il primo incontro ufficiale con questa creatura è avvenuto nel 1891 e venne reso pubblico nel 1925. Il testimone disse che mentre stava transitando sul picco della montagna cominciò a sentire dei passi pesanti e strani. Il rumore veniva da dietro, ma la nebbia non permise all'uomo di vedere che cosa fosse. Tuttavia, altri testimoni riportarono successivamente la stessa esperienza e alcuni di loro furono in grado di vedere una creatura enorme e grigia in lontananza. Chi non crede al Big Gray Man afferma che i testimoni siano stati semplicemente colti da allucinazioni o da effetti ottici. Anche le sensazioni di disagio potrebbero essere create dalla suggestione, soprattutto visto il luogo isolato. non per forza sarebbero quindi connesse ad un evento paranormale. non per forza sarebbero così. non per forza sarebbero quindi connesse ad un evento